Buonasera Londra, abbiamo già parlato diverse volte della prima colazione, ma oggi vediamo di riassumere 5 miti che la riguardano per essere padroni dei concetti e non schiavi delle supercazzole. Il primo mito, che ovviamente è quello più grande, riguarda il nostro metabolismo. Per fortuna il nostro metabolismo non si incentra sulle 24 ore, ma per periodi di tempo più lunghi, 3-4 giorni l'intera settimana. Quindi fare 3 pasti, 2 pasti, 5 o 6 pasti, a parità di quantitativo che mangiamo, non cambia niente. Né nella spesa dinamica specifica, ovvero nelle energie che il nostro corpo impiega per digerire e assimilare gli alimenti, né per tutti gli altri fattori che potrebbero indurre un cambiamento nella spesa energetica. Volete fare la colazione? Benissimo! La volete saltare e condensare le calorie nel resto della giornata? Anche solo la sera? A parità di macronutrienti e calorie? I risultati saranno assolutamente gli stessi. Il secondo mito riguarda che saltando la colazione, quando ci alleniamo, consumiamo più grassi. E questo è assolutamente vero, ma purtroppo le persone confondono il consumare più grassi col dimagrire di più. Una volta che noi abbiamo cenato e iniziamo il digiuno notturno, il nostro metabolismo si sposta poco a poco da quello glucidico, se avevamo mangiato dei carboidrati, a quello lipidico, mano a mano che il digiuno avanza. È logico che se ci alleniamo mentre siamo a digiuno, il metabolismo lipidico è più attivo. Quindi una parte di quello che consumeremo sarà prevalentemente, rispetto ad aver mangiato nella prima colazione, a discapito dei grassi. Il corpo però non va a vedere che cosa brucia nell'acuto, se carboidrati o grassi. Guarda il dispendio totale delle 24 ore, guarda quello che abbiamo mangiato nello stesso lasso di tempo e si autoregola. Che cosa vuol dire? Che se consumiamo più grassi durante l'attività fisica, nel momento in cui introduciamo dei carboidrati, il corpo preserva di più i lipidi e va a compensare con gli zuccheri. Viceversa, più carboidrati bruciamo durante l'attività fisica e nel resto del tempo il corpo andrà a prediligere i lipidi come fonte energetica. Quindi se saltare la colazione nel breve tempo fa sì consumare più grassi, a fine giornata non è cambiato assolutamente nulla. Il terzo mito è forse quello meno conosciuto, allenarsi a digiuno aumenta il catabolismo muscolare. Perché anche in questo caso si fa esattamente l'errore di guardare l'acuto, è vero che abbiamo un maggior catabolismo proteico se ci alleniamo a digiuno, ma il corpo ancora una volta se successivamente mangiamo sufficienti calorie e una buona quota proteica va a supercompensare. Negli studi sul digiuno intermittente gli atleti di bodybuilding che si allenavano a digiuno non perdevano più massa magra di quelli che avevano fatto la colazione. Quindi se vi trovate bene a saltare la prima colazione non abbiate paura di catabolizzare di più, non serve prendere aminoacidi ramificati per evitare il catabolismo muscolare. Questo sparacchio in realtà forse lo dovrebbero avere soltanto atleti di resistenza che fanno attività continuative e intense per più di un'ora. Ma per chi si allena con i pesi, allenarsi a digiuno non vi brucerà la vostra preziosa massa magra. Gli ultimi due miti sono contrapposti tra loro. Il primo riguarda le catecolamine. Quando noi siamo a digiuno si alza il cortisolo, il GH, ma anche adrenalina e noradrenalina. Quindi alcuni sostengono che allenarsi senza aver mangiato ci fa essere più aggressivi verso l'allenamento. Se è vero da una parte che il sistema simpatico a digiuno è più attivo, è anche vero che poi sull'allenamento non è assolutamente rilevante. C'è anche qui una forte soggettività. Se uno si trova bene ad allenarsi al mattino senza aver mangiato, lo faccia come abbiamo visto, non ci sono né vantaggi né svantaggi. Se invece il vostro sistema nervoso beneficia di introdurre degli zuccheri prima dell'allenamento, va benissimo anche in questo caso farlo. È inutile dire è meglio questo o è meglio quest'altro, a seconda del soggetto testa tutti e due e vede con quale si trova di più. L'ultimo mito è che se saltiamo la colazione per la prima parte della giornata siamo senza energie e senza forze. Questo può avvenire soprattutto nel primo tempo in cui non siamo abituati a prolungare il digiuno notturno, ma basta fare un po' di pratica e il nostro corpo fino a 15, 16, 18 ore riesce benissimo a regolarsi con il digiuno di breve durata. Quindi il sistema lipidico riesce benissimo a compensare il fatto che non abbiamo mangiato e anche qui se vi sentite morti, mangiate, non ci sono problemi. O se invece volete provare un digiuno intermittente, normalmente sono le prime due settimane quelle più faticose, poi il corpo migliora il suo metabolismo lipidico, che non vuol dire dimagrire di più, mi raccomando, e anche la sensazione di stanchezza, spossatezza che avevamo sparisce. Ovviamente perché poi qualcuno ci dice sempre, sì ma io sono diabetico, sì ma io ho questo problema. Ci stiamo riferendo alla fisiologia di base per soggetti sani. Se avete patologie o se volete cambiare il vostro regime alimentare, sentite un biologo nutrizionista, un medico, uno specialista, prima di fare qualsiasi cosa. Dal nostro punto ci dispiace ancora una volta constatare che come diceva Nice, il valore di un uomo si misura in quanta verità riesce a sopportare. Noi siamo sempre alla ricerca della pillola magica, di pensare che questa strategia ci darà chissà che vantaggio metabolico, eppure ancora una volta studia la mano. Vediamo che sono poche le cose che contano e che fanno la differenza. Non è saltare alla colazione o farla che vi darà una miglior salute, l'autofagia nel digiuno intermittente dà gli stessi benefici che una dieta ipocalorica e bilanciata, fare colazione non vi darà chissà che vantaggio per il resto della giornata, trovate il vostro stile alimentare preferito, come vi trovate meglio, seguite la dieta che vi permette di ottenere più risultati e non pensate che tutto il mondo è come voi. Ognuno di noi ha le sue preferenze, ognuno di noi è differente e forse il bello dell'alimentazione è proprio questo. Io vi ringrazio per l'attenzione, lunedì prossimo non ci sono, torniamo mercoledì con dei nuovi video. Buon fine settimana!